Prosegue l'avanzata del generale Haftar verso Tripoli, capitale della Libia. Il comando generale delle forze fedeli all'uomo forte della Cirenaica ha annunciato che l'esercito nazionale libico ha abbattuto un aereo partito da Misurata e diretto a Tripoli. E i miliziani sostengono di aver preso possesso di un campo militare nei pressi di Ainzara. I combattimenti hanno portato morte su entrambi i fronti, innescando inoltre una crisi umanitaria con migliaia di sfollati in fuga dalle zone di guerra. C'è ancora tempo per interrompere immediatamente i combattimenti in corso e tornare a un serio processo politico per risolvere la crisi in Libia, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres dopo l'ultima riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Nel frattempo si rischia una nuova crisi diplomatica a Parigi-Roma dopo che la Francia ha bloccato una dichiarazione dell'Unione Europea che chiedeva ad Aftar di fermare l'offensiva militare in Libia. Sarebbe gravissimo se la Francia per interessi economici o commerciali stesse bloccando l'iniziativa europea per riportare la pace in Libia e stesse sostenendo una parte che combatte, ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il quotidiano La Repubblica intanto riferisce di un negoziato segreto del premier Giuseppe Conte con emissari di Aftar giunti lunedì a Roma.